Presidente, è la prima volta con il Vescovo Leuzzi, però un appuntamento annuale che si rinnova per l'appunto anche quest'anno. Innanzitutto ci fa piacere conoscere il nuovo Vescovo e poi mi dicono che sia anche uno sportivo e questo ci fa immensamente piacere che capisci ancora di più le problematiche che ci sono nel calcio e nei ragazzi giovani e meno giovani. È una visita che arriva dopo una sconfitta con il Teramo che ha giocato un buon primo tempo, nel secondo tempo forse ha subito psicologicamente il gol. Cosa possiamo dire di Bolzano? Di Bolzano dobbiamo dire che dobbiamo diventare ancora più squadra perché si è visto un buon Teramo per come ha giocato, per come si è impegnato, ma però un piccolo Teramo per come ha preso il gol. Quindi dobbiamo crescere, faremo di tutto noi in primis per far crescere questo gruppo e devono pensare che siamo una grande squadra e avere una mentalità vincente come stiamo già da parecchi mesi parlando e cercando di arrivare a questo. Domenica sarà una gara già importante sia per il Teramo che per la Samba che sono state entrambe sconfitte all'esordio. A noi pensiamo al Teramo, spendiamo di vincere perché insieme al nostro pubblico faremo di tutto per poter far sì che la partita sia dalla nostra parte e noi ci impegneremo al massimo, daremo veramente più del dovuto, la squadra è tosta, è presente e poi il campo dirà ancora una volta come andrà a finire la partita.